continuazione del video sul lago di cei ultimo giorno d'estate siamo verso la fine del lago sulla sponda destra del lago adesso ci porteremo sulla sponda a sinistra continuazione del video ancora riflessi sempre panoramiche natura si specchia nel lago l'acqua del lago forma parecchi colori dal blu scuro fino al blu più chiaro e color smeraldo siamo alla fine del lago più troppo contro sole un'antica fontanella situata verso la fine del lago la madonna del rosario del lago di cei la geratura che circonda il lago ancora adesso siamo sulla riva sinistra del lago sullo sfondo la cima beca ancora avanti cima beca la limpidezza dell'acqua del lago questo è il lago piccolo verso la fine della sponda sinistra del lago di cei la fitta vegetazione lungo le rive un grosso fungo del legno funghi pinaroli in dialetto dal sangue commestibili una scultura che rappresenta il peso del lago siamo verso la fine della sponda sinistra del lago molto che Grazie a tutti.